Ciao ragazzi, oggi abbiamo una piccola sorpresa per voi. Volevamo farvi vedere il nostro quarto membro della famiglia, Wilson! Vai patato, saluta! Vai! Vai! Ciao Wilson! Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona Giannina. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara il dolce natalizio più apprezzato in assoluto. Il Pandoro. Ma voi conoscevate la storia di questo dolce? Ve la racconto io oggi. Prima di tutto da cosa deriva la parola Pandoro? Un pasticcere una volta sfornò questo dolce, lo tagliò e notò il suo bellissimo colore dorato e lo chiamò appunto Pandoro. La nascita ufficiale del Pandoro risale a martedì 14 ottobre 1894, quando il pasticcere Domenico Melegatti presentò la sua ricetta al Ministero dell'Agricoltura e Commercio del Regno d'Italia. Prese spunto da un'antica tradizione veronese, nella quale le donne dei villaggi durante la vigilia di Natale si trovavano per impastare il levà, che era un dolce lievitato e coperto di granella di zucchero. Lui tolse la granella di zucchero, mise lo zucchero a velo, aggiunse anche uova e burro e creò la sua ricetta. Quindi l'impasto c'era, ma la forma mancava. Quindi si mise d'accordo con il suo caro amico e bravissimo pittorio veronese Angelo D'Alocca Bianca e costruì per lui la forma del Pandoro, che è quella che conosciamo oggi, una piramide tronca con le otto punte, che distingue questo dolce da qualsiasi altro. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la nostra versione. Iniziamo la ricetta con il lievitino. Mettiamo in una ciotolina 60 ml di acqua tiepida, 50 g di farina manitoba, 4 g di lievito secco, un cucchiaino di miele e un tuorlo d'uovo. Mescoliamo per bene con un frustino, poi copriamo con pellicola alimentare trasparente e lasciamo lievitare nel forno spento solamente con la luce accesa per un'ora o fino a raddoppio. Guardate un po' com'è venuto bene il nostro lievitino. Adesso lo andiamo a trasferire in una ciotola bella capiente, insieme a 200 g di farina manitoba, 2 g di lievito secco, 25 g di zucchero semolato, un uovo e 40 g di burro morbido. Mescoliamo per 5-7 minuti, ossia affinché diventerà bello liscio ed omogeneo. Ungiamo con del burro una ciotola, pirliamo un pochino il nostro impasto in modo da formare una palla, lo andiamo a trasferire nella ciotola, poi lo copriamo con della pellicola alimentare trasparente e lo lasciamo lievitare nel forno spento solamente con la luce accesa per un'ora o fino a raddoppio. Ecco qui il nostro impasto, adesso lo prendiamo e lo trasferiamo in una ciotola ancora più grande. Aggiungiamo 200 g di farina manitoba, 140 g di zucchero semolato, 2 uova e l'albume rimasto, 30 g di cioccolato bianco sciolto, la scorza di un'arancia e di un limone, mezzo cucchiaino di semi di bacca di vaniglia bourbon e un pizzico di sale. Impastiamo per 20 minuti, ogni tanto ci fermiamo e misuriamo la temperatura dell'impasto, se superi i 26 gradi mettiamo la ciotola nel freezer per 5 minuti, poi riprendiamo ad impastare. Ungiamo le nostre mani e il piano da lavoro con del burro, prendiamo il nostro impasto, lo trasferiamo sul piano da lavoro e lo impastiamo per circa 2-3 minuti. Prendiamo una parte dell'impasto, lo allunghiamo con gentilezza e se diventa trasparente vuol dire che è pronto. Lo riprendiamo, gli diamo un pochino di pirlatura con le nostre mani, successivamente imburriamo un'altra ciotola pulita con del burro, ci trasferiamo al nostro impasto girato, lo copriamo con della pellicola alimentare trasparente e lo lasciamo riposare nel frigo per almeno 12 ore. Prendiamo il nostro impasto bello fresco, lo trasferiamo sul nostro piano di lavoro spolverizzato con della farina e lo stendiamo affinché diventerà un rettangolo delle misure di 40 cm di lunghezza per 20 di larghezza. Aggiungiamo 140 g di burro morbido nella parte inferiore del nostro impasto, poi portiamo la parte inferiore a coprire quella superiore e giriamo l'impasto con l'apertura a destra, poi schiacciamo un pochino con le mani così distribuiamo il burro dappertutto. Poi ci aiutiamo con un mattarello e formiamo un rettangolo di 40 cm per 20 cm, schiacciando le eventuali bolle d'aria. Adesso possiamo fare la nostra piega a tre, quindi portiamo la parte superiore circa a metà dell'impasto, con la parte inferiore copriamo, poi giriamo la parte dell'apertura a destra. Successivamente schiacciamo un pochino con le nostre mani l'impasto, lo copriamo con della pellicola alimentare trasparente e lo lasciamo riposare in frigo per un quarto d'ora. Poi riprendiamo il nostro impasto, lo ristendiamo finché non diventerà un rettangolo di 40 cm per 20 cm e facciamo di nuovo le pieghe a tre. Successivamente lo schiacciamo con le mani, lo copriamo con la pellicola alimentare trasparente e lo lasciamo riposare nel frigo per un quarto d'ora. Per la terza e ultima volta riprendiamo il nostro impasto, lo ristendiamo finché non raggiungerà le misure prestabilite di 40 cm per 20 cm, rifacciamo tutte le nostre pieghe a tre, poi lo andiamo a pesare. Abbiamo creato un impasto per un chilo di pandoro, quindi dovremo togliere un pezzo, perché la nostra forma contiene solamente 800 g di impasto. Guardate che belle che sono le sfogliature! Prima formiamo una palla con il nostro impasto, poi lo pirliamo in modo da dargli più rotondità. Subito dopo lo trasferiamo in una teglia imburrata, mettiamo la parte liscia nella parte sotto. Successivamente lo andiamo a coprire con della pellicola alimentare trasparente e lo mettiamo in forno già preriscaldato a 50 gradi e prima di aggiungere il pandoro spegniamo il forno, lasciando solo la luce accesa. Lasciamo tutto a lievitare per 6 ore o fino a che non raggiungerà l'orlo. Guardate com'è venuto bene il nostro impasto! Adesso togliamo la pellicola e scaldiamo il forno a 170 gradi statico per 20 minuti, così sul nostro pandoro si formerà una leggera crosticina in superficie. Lo cuociamo per 15 minuti soltanto che dopo 10 minuti lo copriamo con un foglio di alluminio. Passati i 15 minuti abbassiamo a 160 gradi e continuiamo la cottura per 30-35 minuti. Mi raccomando, dobbiamo fare la prova stecchino. Appena sfornato misuriamo la temperatura interna che dovrà essere sui 97 gradi, ciò significa che è pronto. Lo lasciamo raffreddare nella sua teglia per 30 minuti. Poi lo giriamo e con delicatesa tiriamo via la sua forma. Infine lo copriamo con un canovaccio e lo lasciamo a riposare per tutta la notte. Come vuole la tradizione, spolverizziamo con abbondante zucchero a velo vanigliato per completare la sua bellezza e unicità. Ammirate sua maestà il pandoro! Assicuriamo che niente è più soddisfacente di farlo in casa propria. Guardate com'è fatta bene la sfogliatura! Si apre letteralmente in leggere e sofficissime foglie. Notate come si vede bene la divisione della sfogliatura! Sono talmente leggere le foglie che si staccano solo con la pressione di un dito. Una cosa veramente suck! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito sia l'assaggio e adesso gustiamo il re dei Dolci Natalizi Italiani. Com'è morbido! beh cosa posso dirvi a riguardo ragazzi veramente è fatto a regola d'arte è di un giallo intenso veramente suggestivo le sfogliature sono fatte a regola d'arte e gli aromi conferiscono un gusto in più veramente passesco è una grande soddisfazione perché c'è tantissimo lavoro per fare questa meraviglia e il risultato è pazzesco insomma ragazzi è un dolce che non potrebbe mai mancare sulle tavole degli italiani il 25 dicembre assolutamente da provare bene ragazzi il nostro video finisce qui e cosa posso dirvi vi auguro delle bellissime feste un sereno Natale e un felice anno nuovo ciao ragazzi